Nell'ambito delle iniziative per il settantesimo anniversario di fondazione di Avis Verbania, sabato 22 aprile viene organizzata presso l'Oconnor Pub di Intra la serata Gocce di Musica, Donare fa bene a te e agli altri. È la prima uscita sul territorio, usciamo come l'anno scorso, lo slogan è la donna e l'amore per il dono. Abbiamo creato questo sodalizio con Cuore di Donna e l'associazione Veronica Argento e saremo questa serata all'Oconnor per parlare sia di donna, sia di violenza, che di sicurezza stradale. L'anno scorso eravamo con i genitori delle vittime della strada e con l'associazione Nero Fluo e abbiamo parlato solo e esclusivamente di sicurezza stradale. Noi come Avis, essendo un'associazione molto grossa, vogliamo essere anche il trampolino per le associazioni un po' più piccole e Cuore di Donna non è il caso, ma l'associazione Veronica Argento sì e quindi cerchiamo sodalizio con le altre associazioni per portare messaggi etici sociali sul territorio. Nel corso della serata stazionerà all'esterno del locale il camper del progetto Sicura la Notte, promosso da Asla, VCO e Consorzio Servizi Sociali e gestito dalla cooperativa Contorno Viola.